Cioè non è possibile non autocelebrarsi, è pazzesco, ma guarda i francesi, cavolo, tre monumenti, sembra che ce n'hanno 3000 con tutto il rispetto di Parigi che è meraviglioso, ma tre monumenti, ce n'hanno una caterba, questi ce n'hanno un pezzo di ferro che si illumina, noi ci hanno, ma anche il Colosseo, cioè vabbè, dai, per favore, c'hai un museo, ma se non c'è fosse la Gioconda, io non so quanta gente ci andrebbe, ma non voglio litigare a quei francesi, ci mancherebbe altro, ora lì la cultura è rispettata, C'ho gli amici che lavorano, lavorano, lavorano e hanno presi i soldi se non hanno lavorato, per cui basta davvero, basta, 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 lo dico a nome di tutti, non si può continuare così, fa se sto culo per niente, perché all'ultimo uno torna un paio di 100 euro, 300 forse, non è possibile, non è possibile, preferisco che sia vuoto perché la gente abbia scelto di non venire a vedere uno spettacolo, che invece sapere che è pieno ma non mi puoi entrare, non va bene. Per cui basta, no? Cerchiamo di lavorare al 60%, al 70%, no, pieno, tutto, è una scelta della persona che viene a teatro, che va al cinema, le mette la mascherina, le toglie, lei lo decide lei, sta dimettendo paura alla gente, i teati già sono pieni di persone ultra cinquantenni, ultra sessantenni e sono quelle che hanno magari più paura di essere colpite da un virus. L'altro giorno mi stavo diventando una cosa più divertente, stavo sull'aereo, uno mi ha vomitato addosso, ma io sono stato contento, dici questo è matto, no, perché c'aveva un altro virus, quello intestinale, oh, stanno a tornare quelli storici, io voglio che torni l'influenza, finalmente, ho un virus intestinale, spero che non me l'abbia attaccato, sono passati solo due giorni, io ho un po' di colite, ma è roba mia, per cui ecco quello che voglio dire, attenzione, lasciateci liberi e lasciate la gente libera di scegliere dove andare a divertirsi, a goderne, i ristoranti si stanno riempendo, sono pieni, mi fa tanto piacere, tantissimo, sono felice, non sono invidioso del successo degli altri, il mio successo non sarà mai l'insuccesso di un altro, anche dei colleghi, per cui vi prego, vi prego, vi prego signori politici, mano sul cuore, sulla coscienza, liberi, come stanno facendo negli altri paesi del mondo, non in tutti purtroppo, non nei paesi poveri che dovremmo aiutare, va bene? Grazie, scusate il secondo sfogo.